Ciao, sono Emiliano Calli dell'Agenzia Immobiliare Remax Italcase. Oggi mi trovo in via Tadeuta Sessa 12, una traversa di via di Largo Bocea, quindi un punto molto centrale, a due passi della metropolitana Cornelia. Quello che ti presento è un appartamento che è in buonissime condizioni, con infissi in alluminio doppio vetro, porta blindata, impianto elettrico con salvatita e è un bilocale. È l'appartamento che affaccia verso la circombalazione Cornelia, come si intravede lì, composto da questo soggiorno molto ampio, con un ingresso anch'esso comodo che ha una finestra verso la chiostrina interna. Dal soggiorno e dalla cucina si esce sul balcone, ecco lì, io le la faccio. E poi c'è un disimpegno che porta la zona notte e zona servizi, quindi c'è una cucina abitabile, anch'essa lì in fondo sulla destra ha l'accesso al balcone. Ecco il micetto, ci fa compagnia. Camera da letto, una camera da letto abbastanza comoda, spaziosa. E poi il bagno, anche questo comodo, sia vasca che intoccia e sanitario. È un appartamento che è, ripeto, in buonissime condizioni, ideale per un single, ideale per una coppia. È un ottimo appartamento anche per chi cerca un investimento da dalla vicinanza alla metro. Se volete visitarlo, a breve sulla destra ci sono i miei recapiti, non esitate a contattarmi. Ma con un agente Remax? Eccoci, come va? Hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi. Grazie a tutti.